E' stata presentata ufficialmente questa mattina in conferenza stampa la settima edizione della Maratonina degli Ulivi che si svolgerà domenica prossima 27 aprile ad Ostuni. Abbiamo ascoltato il presidente dell'Associazione Atletica Città Bianca, l'assessore al turismo e allo sport Agostino Buongiorno e il sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella. Noi stiamo puntando a circa un migliaio di atleti che arriveranno in parte pure da fuori regione. Il programma prevede prima della partenza che sarà alle 9 ci sarà un balletto alle 8.30 di riscaldamento e poi subito dopo la partenza ci saranno circa 12 gruppi per l'intero percorso della manifestazione. Su Viale Pola ci saranno 4 gruppi e poi il resto saranno sparsi per tutto il percorso che è di circa 18 chilometri fuori Ostuni. Con questa iniziativa sicuramente danno un valore aggiunto a tutto quello che fa l'amministrazione sul territorio ma anche un'offerta specialmente per questo lungo ponte pasquale che stiamo dando a coloro i quali hanno scelto di passare le vacanze con noi. Quindi non solamente musica, non solamente arte, cultura ma anche sport. In questi anni noi abbiamo offerto alla nostra città non solo eventi ma anche grandi opere come la ristrutturazione del vecchio e storico palazzetto, piste ciclabili, iniziative che hanno fatto in modo di creare un afflato tra le associazioni sportive e la città di Ostuni perché noi siamo uno dei pochi comuni che garantisce l'utilizzazione non solo gratuita ma incentivata delle strutture sportive che continuiamo a migliorare, a costruire e a creare. Quindi questo è il messaggio che si vuole mandare, partecipazione, socializzazione, eventi insieme anche a strutture sportive che favoriscono la pratica dello sport che è particolarmente educativo a tutti.